Giornata impegnativa per i 150 equipaggi, molti provengono da diverse nazioni europee ed anche dagli Stati Uniti, del Giro di Sicilia Autostoriche organizzato dal veteran Car Club Panormus. Dopo l'arrivo in notturna a Campobello di Mazzara, oggi il tratto che da Menfi, via Sciacca, Grigento e Niscemi, porta direttamente all'autodromo di Pergusa. Ieri sera, prima della partenza alle 20, starter il sindaco di Palermo Orlando con il pluricampione siciliano Nino Vaccarella, la visita di appassionati e curiosi a il paddock allestito nel tratto finale di Via Libertà con le vetture allineate. Un'opportunità forse unica per ammirare le vetture e conoscere dettagli e curiosità dall'evoluzione tecnica dei motori agli allestimenti. Noi fin dall'inizio abbiamo sostenuto queste manifestazioni di autostoriche perché fanno conoscere, oltre alle splendide auto che ci sono qui, anche un pezzo della nostra storia, della nostra cultura, l'evoluzione dell'automobilismo. Poi farlo in Via Libertà in un museo a cielo aperto è una cosa splendida da offrire a tutta la cittadinanza.